Fa discutere l'opera contesa, se così si può dire, tra l'Aquila e Pescara. I Morticelli, opera di Michetti del 1880, è il fulcro della nuova sala dedicata ad 800 e 900 del Munda, inaugurata da pochi giorni. Lo spostamento dell'opera da casa d'annunzio nel Museo dell'Aquila ha provocato più di un malumore sulla costa dove l'opera si trovava, come ha documentato Reteotto in questi giorni, con il sindaco Masci, ad esempio, che ha chiesto alla soprintendenza il ritorno della tela Pescara. Ma la proprietà è del Munda e a Pescara si trovava, come altre opere, per un deposito temporaneo. Lo spiega bene il critico d'arte aquilano Antonio Gasparrini, ricordando che il Museo Nazionale d'Abruzzo è di tutti gli abruzzesi a questo al Michetti nel 2005. Quest'opera è del Museo Nazionale d'Abruzzo ed è pervenuta nel museo nel 2005 perché il museo acquisisce anche opere sia del passato che contemporaneo per implementare la sua prestigiosa collezione. Ora, il problema non deve essere posto sotto l'ottica campanilistica perché il Museo Nazionale d'Abruzzo è di tutti gli abruzzesi e quello che bisogna sapere è che nel mondo attuale sono esposte tra opere archeologiche e quelle più vicine ai secoli 200, più o meno 200 opere corrispondendo al 10% di tutti i patrimoni. Il quale patrimonio è stato poi, diciamo così, dopo il sisma, depositi e prestiti dati in modo temporaneo. Cioè queste opere, le 11 che la sovrintendente Piledici ha riportato ad Apila, erano tutte opere date in prestito temporaneo. Quindi il problema non esiste, non esiste. L'opera è molto prestigiosa e tante persone in questi giorni si stanno rivolgendo al museo per poterla vedere. Del resto si tratta di una tela straordinaria, come sottolinea il critico d'arte. Nel 1880 fu esposta per la prima volta all'esposizione a Torino nel 1980 e riscorsi di un grande successo. È importante perché è uno dei periodi di maturità di Francesco Palomichetti, il quale in modo magistrale rappresenta questa scena del dolore con tutte le figure messe una dietro l'altra in modo paratattico. E quindi una sintesi bellissima del dolore ma anche della bellezza del paesaggio, di tutto quello che sta dietro e che riguarda gli abruzzesi. Ed è, secondo me, un'opera che fa da liaison tra collina, montagna e mare. Cioè, ecco, è un'opera emblematica, forte, nonostante ci sia il pathos del morticello. Grazie. 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 Grazie.